E colleghiamoci ora col condirettore generale del Banco BPM, il dottor Salvatore Poloni. Con lei vorrei parlare del tema delle competenze, quanto è fondamentale quindi valorizzare le persone. Ma che cosa vuol dire poi questo tema di competenza, merito? Condirettore. Il tema delle competenze è un tema centrale e cruciale per Banco BPM, che nell'ambito del proprio piano industriale ha messo a punto una people strategy, una strategia per le persone, proprio per mettere al centro le loro competenze e lo sviluppo delle stesse. Quando parliamo di competenze noi parliamo di conoscenze, di capacità e di comportamenti attraverso i quali le conoscenze e le capacità vengono rese concrete. È evidente che questo significa che noi consideriamo le persone come l'elemento che veramente fa la differenza nell'ambito della nostra attività, nell'ambito dei servizi che noi svolgiamo per i nostri clienti. Ovviamente questo non è un tema che riguarda soltanto il lato aziendale, ma riguarda anche proprio la ricchezza e la crescita della persona. Per questo aspetto abbiamo sviluppato alcune iniziative importanti. Il progetto rispetto che pone al centro il rispetto che è dovuto alla persona in quanto tale, prima ancora che al professionista, e poi una struttura che è proprio dedicata alla gestione e allo sviluppo dei talenti delle persone. Quindi non la persona come talento, ma come persona che possiede e ha numerosi talenti che devono essere portati a fattor comune per il bene collettivo che è il bene aziendale. Da questo punto di vista, oltre al grande lavoro che può e deve essere fatto in ambito aziendale, è evidente che c'è un lavoro che deve essere sviluppato prima. ed è cruciale l'attività della scuola e delle università che devono certamente fornire quel bagaglio di conoscenze che è utile per la vita, prima ancora che per il lavoro, ma nello stesso tempo anche fornire alle giovani generazioni il metodo e la curiosità per continuare ad apprendere lungo tutto l'arco della vita lavorativa e lungo tutto l'arco della vita personale. Il mondo della conoscenza, il mondo del sapere, il mondo delle competenze che devono essere rinnovate continuamente. Oggi noi abbiamo tutta un'attività che è estremamente importante, per esempio in ambito tecnologico. Evidentemente non basta soltanto avere la pratica della tecnologia, bisogna avere le categorie e il metodo per apprendere e sviluppare conoscenze anche in quest'ambito. Purtroppo devo dire che talvolta è più difficile ritrovare sul mercato del lavoro studenti che vengono formati nelle università sul piano tecnico e tecnologico, ma bisogna anche riconoscere che nel nostro Paese esistono tante eccellenze e ottime scuole anche da questo punto di vista. C'è un aspetto che non dobbiamo trascurare, che pur avendo tante eccellenze, noi abbiamo comunque molti giovani che poi perdiamo, tra virgolette, perché vanno all'estero. Negli ultimi dieci anni oltre 300 mila ragazzi neolaureati sono andati all'estero. Ognuno di loro per arrivare alla laurea è costato, se così possiamo dire, circa 300 mila euro. E quindi noi stiamo, diciamo così, esportando un capitale molto importante. Ecco, bisogna fare in modo che si possa diventare attrattivi anche per non solo far ritornare questi giovani, ma magari essere attrattivi anche nei confronti dei brillanti giovani che vengono formati nelle università internazionali e poi trovano sbocchi lavorativi importanti anche nel nostro Paese. E ringrazio il dottor Salvatore Poloni, condirettore generale di Banco BPM.